Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a Napoli, ci troviamo nel complesso monumentale gotico di Santa Chiara. Ho visto questo sentimento raccolto per salvo d'acquisto, il vice brigadiere dei Carabinieri che il 23 settembre del 1943, giovanissimo, ha donato veramente la sua vita scambiandola con 22 prigionieri completamente innocenti che dovevano essere fucilati dalle truppe tedesche. Questa sera questo giovane eroe viene rappresentato dal nostro coro e dall'orchestra del Conservatorio di Santa Cecilia dove diretti dal maestro Ernesto Gordini eseguono in prima nazionale assoluta il Soffio di Dio, l'oratorio postulante della beatificazione di salvo d'acquisto dove il testo e la musica sono scritte dal colonnello Antonio Pappalato. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.